Come diceva Malaparte, tutta la storia finisce a Prato, qui c'è la storia dei pezzi più preciati che ho potuto raccogliere in questi 60 anni di storia. Per i suoi 80 anni Giovanni Masi ha voluto fare un regalo alla città, apposto un primo tassello di quello che in futuro sarà il Museo dello Straccio, un ode al lavoro che ha reso Prato ricca e famosa nel mondo. Conosciuto da tutti come il cenciaiolo di Vergaio, Masi possiede una collezione di oltre 20.000 abiti provenienti in gran parte dagli Stati Uniti e dal Messico. Alcuni pezzi sono delle vere e proprie rarità come i primi levis realizzati negli anni 30. Questo è un levis che viene prima della guerra perché, vi ripeto, è di rame. Quando scoppiò la guerra mondiale nel 44 e 45, lo Stato americano vietò di mettere il rivetto di rame perché il rame serviva per fare le munizioni. Questi sono tutti abiti di un certo prestigio di seta, ricamata a mano, di pailletti. Forse gli hanno indossato qualche attrice, qualche personalità americana perché io ho comprato solo e esclusivamente in America. Il sogno di Giovanni, il futuro museo dello straccio, nascerà in uno dei capannoni di sua proprietà a Vergaio, in via De Curtis, dove ieri si è tenuta all'anteprima, alla presenza di tantissimi amici, di quello che sarà l'archivio Masi curato dal nipote Luigi. Sì, questa è un po' la storia della mia famiglia. Mio padre e mio zio hanno cominciato subito nel primo dopoguerra a lavorare gli stracci e in seguito gli indumenti usati. Poi la mia generazione è entrata nel mondo del lavoro, ho cercato di mantenere le radici della famiglia e ora stiamo esponendo dei capi che negli anni abbiamo conservato in modo molto minuzioso. L'amore per il lavoro di Cenciaiolo è pari solo a quello per la sua città. Giovanni Masi infatti è l'ideatore del premio Santo Stefano per le aziende virtuose del distretto ed è un instancabile animatore di mille iniziative per i meno fortunati. Adesso, con questo museo, consegna a Prato la memoria di un'attività che ha reso grande l'ingegno imprenditoriale pratese.